Mi avete chiesto che cosa sono le segnature, per cui con questo video cerco di spiegarvelo. Partiamo dal nome, segnatura, deriva da segno. Perché? Perché queste sono delle pratiche di guarigione magico-religiose, che combinano l'uso di parole magiche, in realtà di preghiere, che vengono recitate in maniera quasi silenziosa, proprio perché non vengano capite dalle altre persone, pena la perdita del loro potere, accompagnate da dei segni come il segno della croce, cerchi e altri segni eventualmente specifici di altre segnature. A volte possono essere usate anche delle foglie, delle piante, per il loro potere fitoterapico e anche magico. Le segnature si diffondono principalmente nelle campagne, nei secoli, perché un tempo i medici difficilmente arrivavano in questi territori o comunque le persone non avevano abbastanza soldi per pagarli. Ed è per questo che si diffondono figure come quella del segnatore o del guaritore di campagna, che utilizzando queste segnature aiutavano sia le persone che il bestiame, ma anche i campi. Infatti troviamo diverse segnature, anche se non esistono segnature per qualsiasi problema. Le più importanti sono, per esempio, quella del fuoco di Sant'Antonio, quella delle storte, quella delle verruche o dei vermi, ma ne esistono anche altre, quella per togliere il malocchio, quella per gli occhi, quella per i nervi e così via. Esistono segnature anche appunto per l'ambiente, per la prosperità, la fertilità dei campi, ma anche per proteggerli dalle intemperie, per tagliare le trombe d'aria o per proteggere dalla grandine. Ecco, queste conoscenze sono conoscenze antichissime, oggi legate alla visione cristiana, perché vengono invocati i santi, la Madonna, Gesù, e viene chiesta la loro intercessione per la guarigione, ma nelle mie ricerche e nei miei studi ho scoperto che esistevano già molto tempo prima, per esempio ai tempi dei Romani, anche in forma pagana. Sono, potremmo dire così, veramente delle formule sciamaniche di guarigione, che accompagnano l'essere umano dalla notte dei tempi. Nell'ultimo periodo si sono un po' perse, perché ovviamente la nostra visione moderna le ha considerate superstizione, e quindi le persone, andando poi anche a vivere nelle città, si sono sempre più allontanate da queste modalità. Ma obiettivamente negli ultimi anni c'è stata una nuova diffusione, perché di fronte alla paura della perdita di queste conoscenze, come spesso abbiamo visto anche in altre parti del mondo, c'è stato un desiderio di ricondividerle, di farle conoscere e di continuare a farle vivere.